Fat burning cardio and core è un corso di fitness su base musicale molto semplice dove si alternano delle fasi cardio a delle fasi di tonificazione dei vari distretti muscolari la finalità del corso è di attivare il metabolismo bruciagrassi con particolare attenzione nelle fasi di lavoro al centro quindi al lavoro sul tronco, sull'equilibrio e sulla coordinazione io mostro l'esercizio semplicissimo ognuno può modulare gli esercizi proposti sulla base delle proprie possibilità sia a livello cardiovascolare che a livello strutturale e osteoarticolare i miglioramenti fisici sono eclatanti a livello della tonicità muscolare e nella sua semplicità tutti possono eseguire questo allenamento senza sentirsi in difficoltà e portando a termine tutta la lezione è anche divertente, gratificante, insomma un toccasana